Tiziano Bill Secondo me al primo tempo abbiamo giocato troppo lenti, non eravamo concentrati, dopo 30 secondi abbiamo preso il gol appunto perché abbiamo fatto degli sbagli, poi il secondo tempo è andato meglio, c'era più aggressività, più concentrazione, mi ha fatto girare bene la palla però non siamo stati lucidi durante la porta. Sei soddisfatto della tua prestazione? Non molto perché al primo tempo non ho giocato molto bene, non mi sentivo molto sicuro, poi il secondo tempo è andato meglio.